Oggi la presentazione del calendario storico dell'Arma si parla dei valori etici e sociali dell'Arma dei Carabinieri. Esatto, è un calendario molto particolare che ha un taglio molto artistico. Quest'anno il tema è l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel mondo. Ad ogni mese dell'anno è stato dedicato un continente o comunque una regione di un continente nell'ambito all'interno della quale l'Arma dei Carabinieri è presente o è stata presente o lo è stata storicamente come protagonista sia in teatri relativi alle missioni di pace sia comunque in funzione di ente di addestramento alle forze di sicurezza di quel paese. Parliamo di un calendario che rappresenta un po' fotografa proprio l'Arma dei Carabinieri che viene stampato in oltre 1.300.000 copie in tutto il paese. Esatto e quest'anno si è avvalso anche di contributi, di concorsi molto prestigiosi perché proprio in aderenza a questa particolare caratteristica del calendario nel mondo o meglio dell'Arma dei Carabinieri nel mondo ad ogni regione geografica, come dicevo prima, ad ogni area del mondo è stato associato un artista proveniente da quel particolare contesto territoriale per cui abbiamo tavole di artisti albanesi, rumeni, africani, afghani, iracheni, nordamericani, sudamericani quindi è veramente un calidoscopo di realtà, di costumi, di tradizioni nel mondo a cui l'Arma si accompagna.